pensiamo che lei abbia la sindrome di Ehlers-Danlos spiegherebbe i sintomi e provoca anche aborti spontanei secondo lei è possibile che si tratti di questo? si è rimasta incinta tre volte gli aborti hanno scatenato l'accumulo e col tempo quello ha fatto ammalare anche lei si può curare? possiamo curare i sintomi fisici quando si presentano e farla vivere molto meglio ma per l'accumulo siamo i medici sbagliati mi hai mentito per nove anni avevo tanta paura di perderti cosa ho fatto per provocare questa paura? ho bisogno di prendere un po' d'aria mi hai mentito? 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 mi hai mentito?